Mi raccomando, scegliete sempre un sale che non sia il classico sale iodato da 1,50€ perché è un veleno per il corpo. Una curiosità è che se io mangio un sale privo di minerali, poi il mio corpo avrà carenza di minerali più facilmente e sarò più prone a cercare le schifezze nel pomeriggio, magari cerco le patatine, le merendine, perché il mio corpo vede che negli ingredienti della patatina c'è una minima quantità magari di magnesio piuttosto che di... allora pensa che quella sia una buona fonte di quel minerale del quale ha bisogno. Però insieme a quella piccola quantità di magnesio io magari assimilo grassi saturi e altre cose che non fanno bene. Quindi mangiate sale buono!